Trovati 12 telefonini al carcere Malaspina di Caltanissetta, l'operazione effettuata con l'aiuto della Polizia Penitenziaria, così come sottolinea Aldo Di Giacomo, il segretario del sindacato Polizia Penitenziaria, denotando la grande professionalità e l'impegno personale a contrastare la criminalità organizzata all'interno del carcere e a ripristinare la legalità, così come si legge in una nota dell'Agi. È necessario mettere in campo ogni azione perché troppi telefoni cellulari sono presenti nei nostri penitenziari, aggiunto di Giacomo. Infatti, secondo i dati di fonte ministeriale nel 2020, nelle carcere italiane sono stati trovati 1.761 telefoni cellulari, erano stati 1.206 nel 2019 e soltanto 394. Nel 2018 solo una piccola parte arriva attraverso droni contro i quali non credo serva molta schermatura, delle carceri, dice di Giacomo, altri con sistema dei fucili o pistola d'aria compressa come quelli dei bambini, ma potenziati e modificati in grado di sparare il mini telefono cellulare direttamente in cella da distanze considerevoli.